L'opposizione fa sicuramente che non siano sostanziali, la prova sta nel fatto che la legge è stata approvata, non è stata impugnata dal governo. Ieri ho incontrato il ministro Teranza a San Raffaele, che apprezza e approva la legge nel suo complesso. Poi ci sono dei dettagli, adesso la vicepresidente Moratti parlerà in aula, quindi vi lascio alle specifici che farà. Però credo che la cosa importante sia quella che ha detto ieri il ministro, la prima in Italia è sostanzialmente approvata. L'impostazione della legge va a dire, poi che l'opposizione voglia fare un po' di polemica, va bene, ha fatto polemica per 16 giorni in aula, non ha nessuna completa proposta per gli ordini presenti. Grazie. Grazie. Grazie.